Simo, fame io adesso! Un viaggio non può essere perfetto se non si dirizza il palato. Seguiteci in questa nuova avventura enogastonomica. Finalmente si mangia! E dopo la villa del Babbianello, dove andiamo, ta? Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare al ristorante? Nel ristorante Il Grifo. Dove siamo stati due anni fa, cioè no, l'anno scorso, appena uscita il lockdown. Dicevamo, il ristorante Il Grifo, dove abbiamo mangiato l'anno scorso, una volta liberati dal lockdown, quello tosto, dove due mesi di casa siamo usciti e abbiamo mangiato sul muretto perché ha consentito solo l'asporto. L'abbiamo mangiato bene, quindi oggi ci riproviamo. Fra l'altro è vicino alla villa del Babbianello. Di lassù c'è l'area del Grifo Greenway. Dicevo, è vicino alla villa del Babbianello, quindi si arriva a piedi dal parcheggio. E niente, stavolta mangeremo dentro, anzi fuori sulla terrazza, perché non c'è più il lockdown. Eccoci, un pranzo, chiaramente si mangia. Siamo qui in via Ristorante Il Grifo, sul lago del Grifo, a Lennio, giusto? Lennio, esatto. Vicino alla villa del Babbianello, che abbiamo appena visitato. Esatto, quindi siamo andati. E niente, abbiamo appena ordinato un bianco, tanto per cominciare. Inizioniamo con un po' di antipastino, di pesce di lago, e poi a seguire i due premi, e poi vedremo cosa annunciare. Per il momento, buon appetito. Vino del lago, del lago di Como, un IGT, molto buono. Un assaggio di benvenuto a parte di un crostino con stracciatella, con targa di lago, al profumo di limone. Grazie. Prego. Antipastino offerto da la casa, quindi due crostini con stracciatella e con targa di lago, giusto? Al profumo di limone, se non ho capito male. Vabbè, tanto non l'ha detto. Assaggiamo. Un servizio super 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 veloce, è già arrivato l'antipasto di pesce, e un po' misto, non mi ricordo cosa c'è. Vabbè, un po' di pesce di lago, bellissimo. Un po' di lago bellissimo, che sembra anche molto buono. Eh sì, dopo vi diremo se. Se è buono, un'ottima. Un appetito. Allora, siamo arrivati i primi, che direi sono bellissimi. E io prego i fagottelli con il lucio verga. Se voglio fare il campeggio, voglio fare il risotto. Mi vedete. Senti, voglio un risotto. A Pelsico. A Pelsico. E l'antipasto era? Era stra buono. Il vino è stra buono, il sole è stracanoidone, si sta da Dio. È tutto quanto. Allora, buon appetito. Buon appetito. Siamo a fine? No. Ecco. Il bronzo è stato ottimo, devo dire eccellente. E il pesce è molto fresco, il vino è molto fresco. Il vino soprattutto è molto vino. E ci rivediamo più tardi. Ci rivediamo più tardi. Praticamente abbiamo già preso il caffè. Esatto. Però... Siamo caduti in tentazione. Ci abbiamo ripensato e abbiamo preso questo... Ho detto torta di miele frutta, ho detto torta frutta di miele. Ovviamente è impazzito che non è impazzito. Esatto. E via. Ok. Passeggiatina digestiva, anche se alla fine il pesce di lago è molto delicato. Devo avermi detto, ma il vino... E' bello vinoso. E' l'autunno del lago di Como. E su questo muretto, un anno fa, alla fine del lockdown, mangiavamo il cibo da asporto del ristorante del Grifo. Si. E' l'autunno del Nazi. E' l'autunno del cielo. Ma anche voi provare il sogno, fa, Board, avruntas edito che noi soffrir vedi. Grazie a tutti